Adesso la Raggi si confronta con un problema che è agli occhi di tutti e agli occhi di tutta la nazione, non solo i romani, con le strade che strabordano di immondizia. La Raggi dice che è colpa di Zingaretti, Zingaretti dice guardate non è colpa nostra, diteci voi dove volete fare, noi vi autorizziamo. Fatto sta che siete imballati nella più classica questione politica. È colpa mia, è colpa tua, no è colpa mia, è colpa tua. È passato un anno di sindaco e c'è l'immondizia. Questa secondo me è una semplificazione giornalistica, è colpa mia, è colpa tua. Ci sono delle competenze, noi abbiamo aperto a Roma gli impianti nostri dell'AMA 24 ore su 24 per ripulire in pochi giorni quei rifiuti Roma. Che voglio dire, continuare a mostrare queste foto di qualche cassonetto, non di tutti i cassonetti, facendo vedere, facendo vedere in questo momento... Qua stanno tutti per lei, come avrà capito, però davanti alla... In questo momento io penso una cosa, che Roma vada ripulita. Noi stiamo dando il massimo sulla pulizia e sull'apertura degli impianti, però c'è un altro tema. Dove li dobbiamo portare, questi rifiuti? Gli impianti della Regione Lazio. Ma Bassolino diceva le cose sue, se le ricorda. Che sono impianti che devono essere aperti maggiormente dalla Regione per permetterci di portare tutti i rifiuti.